Se ad esempio c'è il blocco del traffico per le regole sul inquinamento dell'aria, ecco i ministri di culto sono esentati, possono tranquillamente andare in giro. Un celebrante laico-umanista, anche se ad esempio deve celebrare un commiato, quindi non è un evento che può spostare o rimandare, non ha questo diritto. E su questa base, come diciamo sempre anche noi del Loire, quando i diritti non sono di tutti si chiamano privilegi. Dovremmo smetterla con i privilegi esclusivamente ecclesiastici, ma dovremmo invece garantire quelli che sono poi i diritti umani fondamentali di tutto e tutti, a prescindere dal tipo di cosmogonia che uno ha. Perché oggi con noi c'è un ospite importante che rappresenta una realtà che in Italia non è tanto conosciuta. È una realtà a cui io personalmente tengo tanto, e anche Axel, è una realtà per cui io lotto da una vita, almeno sui social, per via che venga rappresentata. E porta avanti una battaglia che è quella della laicità dello Stato, che a me tocca tanto personalmente, però non vorrei togliere troppo spazio, quindi io vi presento l'ospite di oggi. Adele Orioli, buonasera. Grazie, grazie per essere qua. Se vuole presentarsi... Grazie a voi. Sono Adele Orioli, mi occupo dal 2007 delle iniziative giuridiche dell'Unione degli Ate e degli Agnostici Razionalisti. Dirigo anche la collana giuridica di Nessun Dogma, Iura, la nostra casa editrice. Cos'è l'UAR? È un'associazione di promozione sociale, un ente del terzo settore dal punto di vista normativo, ma è soprattutto una realtà che da più di 30 anni, cioè dal 1987, si batte sostanzialmente per tutelare dalle discriminazioni gli Ate e gli Agnostici italiani e per affermare il principio di laicità dello Stato, che quantomeno dal 1989 ci insegna la nostra Corte Costituzionale, è un principio supremo dell'ordinamento, la cui applicazione pratica, però possiamo dire che in tal senso è davvero un principio, nel senso che è all'inizio. Invece la rivista Nessun Dogma, che lei mi citava, ci vuole spiegare cos'è? Sono due cose. Una cosa è proprio la casa editrice Nessun Dogma, il nostro progetto editoriale, e un'altra è la rivista Nessun Dogma, che è il bimestrale, che tra l'altro viene inviato a tutti i soci UAR, ma che si trova anche online e anche nelle migliori e più fornite librerie, ed è il nostro punto di vista sui fatti del mondo, non solo quelli italiani, ma in generale sui fatti del mondo, il punto di vista laico e non credente. Come mai è importante, nonostante non ci sia comunque, una forte presenza, almeno a livello teorico, della Chiesa Cattolica? Come mai è importante combattere? Ma in realtà il discorso è che la laicità non è una fra le scelte possibili, quando parliamo di libertà religiosa, è in realtà la scelta che le permette tutte, tutte quante. Quindi senza laicità non c'è né la libertà di scegliere la propria religione, non c'è soprattutto la libertà dalla religione, quindi la libertà anche di essere non credenti. La laicità dovrebbe garantire che appunto uno Stato possa governare in maniera equanime, pluralista, equidistante, senza confessionalismi, nel suo modo di legiferare, nel suo modo anche di tassare, perché no, i cittadini. Spesso i cittadini non credenti sono discriminati anche sotto il profilo economico. È importante perché appunto in teoria un paese civile, moderno e democratico ha la laicità fra i suoi pilastri fondativi. Eppure poi se andiamo a vedere, come diciamo spesso, il non credente italiano è un contribuente sicuramente di serie A, paga gli insegnanti che fanno religione a scuola, paga anche quando non vuole l'otto per mille alla Chiesa Cattolica ad esempio, eppure è spesso nei diritti un cittadino di serie B. Dalla A di aborto alla V di vilipendio, seguendo le schede anche del nostro sito dove c'è la sezione SOS laicità appunto. Ma se ci pensiamo da prima di nascere, pensiamo all'infame legge 40, per fortuna un po' massacrata negli anni, a botte di ricorsi e colpi di tribunale, ma insomma una legge assolutamente assurda, parliamo della legge sulla procreazione medicalmente assistita, a fin dopo la morte, perché nonostante un obbligo che risale addirittura al 1990, in quasi nessun comune è previsto uno spazio per un comiato laico, quindi per salutare degnamente, in ossequio, rispetto alla propria filosofia, alla propria cosmogonia, la persona che appunto era ateo agnostico in vita. Quindi l'UAR tra le tante battaglie ho notato che mi ha colpito tantissimo, perché giuro non ne avevo idea, è quello di organizzare i funerali laici. Quanto tempo avete combattuto per poter ottenere questo diritto? L'UAR dal 2018 ha un progetto che si chiama Cerimonia Unica, anche se in realtà l'UAR se ne interessa da molto prima. Io stessa sono la più anziana in carica, celebrante laico-umanista dell'UAR, quindi dal 2009. È un diritto di tutti poter sottolineare i momenti importanti della propria vita, senza quella che io chiamo etero-normazioni o etero-imposizioni, ma autodeterminandosi anche nei momenti appunto importanti. Non solo le nascite, non solo le morti, ma ci sono anche le unioni, le guarigioni da una malattia o i percorsi di transizione, per fare altri esempi. È importante e soprattutto, secondo quello che non diciamo solo noi, ma ripeto un obbligo da un DPR, da un decreto del Presidente della Repubblica del 1990, da varie determine dirigenziali, e soprattutto in Emilia-Romagna, quindi non lo diciamo solo noi, soprattutto lo Stato dovrebbe fornire i luoghi adatti per poter celebrare. E a dir la verità, persino in un istituto che è normalmente diffuso, che anzi ha superato quello religioso, parliamo del matrimonio, parliamo del matrimonio civile, dell'unione civile, che ha superato il matrimonio intero-sessuale religioso proprio in numeri, a volte persino per i matrimoni non è a disposizione un'alternativa dignitosa da parte dei comuni. E questa è una battaglia che ovviamente come UAR non possiamo non sostenere e non fare nostra. Abbiamo anche in costruzione, grazie anche all'apporto dei nostri celebranti e dei nostri attivisti sul territorio, proprio una mappa per quanto riguarda le sale del commiato laiche, pubbliche e private. E c'è da notare, non a caso, che dove manca completamente il pubblico sorgono numerose sale del commiato private. Questo perché? Perché il nostro è un paese che si sta secolarizzando e quello almeno di essere salutati con un funerale non religioso, se non lo si vuole, è sicuramente un'esigenza in continua crescita. Noi cerchiamo di diffondere da un lato la cultura delle cerimonie laico-umaniste, quindi il sì può fare alla Frankenstein Junior di Mel Brooks, dall'altro cerchiamo anche di formare il personale adatto e qualificato che possa aiutare nell'organizzazione o nella conduzione di una cerimonia del genere. Come guardi per sé noi non siamo antireligiosi, visto che poi tra l'altro pretendiamo di esercitare liberamente un diritto che è quello di libertà religiosa, è semplicemente appunto la libertà dalla religione. Indubbiamente il problema è quando i criteri religiosi diventano criteri normativi, legislativi o comunque impositivi, validi per tutti. Ognuno è libero di credere, di pensare come vuole e di comportarsi secondo la propria appunto filosofia, cosmogonia e anche la propria visione religiosa, anche la propria visione strettamente dogmatica. Quello che non è libero di fare è di imporlo anche a chi non la condivide e meno che mai di imporlo attraverso un apparato statale. Parlando di imposizione, io vorrei strettamente collegarmi a quello che è una lotta che so che è portata avanti da un po' di tempo, che è quella dello sbattezzo. Come nasce questa lotta? Come siete riusciti proprio ad avere questo diritto dello sbattezzo? Perché è interessante. Sì, la parola bruttarella, come diciamo sempre noi, infatti non l'abbiamo inventata noi, non l'ha inventata Luar, l'ha inventata in realtà a venire il giornale dei Vescovi, prendendosela con la prima persona che in Italia ha cercato di sbattezzarsi e cioè Aldo Capitini, che per chi non lo sapesse è il fondatore della marcia Assisi Perugia, una persona estremamente credente, ma che è stato il primo in Italia, seguito di uno scandalo chiamato quello dei cosiddetti concubini di Prato, a chiedere di volersi cancellare dai registri della Chiesa Cattolica. Erano gli anni Sessanta, era la finire degli anni Cinquanta, anzi inizio degli anni Sessanta, Luar, 30 anni dopo, nel 1999, grazie a una felicissima intuizione dell'allora segretario, tra l'altro l'allora segretario nazionale Villella, Giorgio Villella, è riuscita a utilizzare la appena nata legge sulla privacy, la legge sulla riservatezza dei dati che veniva introdotta da, diciamo, matrice europea per la prima volta nell'ordinamento e usando quella come, diciamo, piede di porco giuridico, è riuscita a portare la questione del trattamento dei nostri dati e soprattutto del diritto alla rappresentazione corretta di noi stessi di fronte al garante della privacy. Il garante della privacy, che allora era presieduto da Stefano Rodotà e che ha statuito, senza ombra di dubbio e tra l'altro poi con successive specificazioni anche a livello normativo negli anni a seguire, come ogni cittadino che sia stato di solito in un'epoca in cui non ne ha minimamente coscienza perché il pedobattesimo in Italia è la norma e quindi si viene battezzati di solito a pochi mesi o a pochi giorni. Quindi qualunque cittadino che di solito, appunto, persino contro la sua volontà o quantomeno senza la sua volontà è stato battezzato o comunicato o cresimato e che quindi si ritrova a far parte, come dico io, di un club al quale non si è mai voluto iscrivere ha tutto il diritto secondo la legge italiana di rettificare questa informazione e quindi anche se non può direttamente cancellare il battesimo ha però il diritto di vedere annotato a margine dei registri la sua volontà di non essere più considerato facente parte della Chiesa Cattolica e di vedere i suoi dati inutilizzabili per qualsivoglia fine, quindi sia a fini statistici nella conta delle persone battezzate sia a fini proprio di contatto con la persona ricordiamolo in generale nella procedura non c'è alcun obbligo da parte di chi procede allo sbattezzo di contattare o di incontrare chi che sia di persona e consente soprattutto di far cessare i cosiddetti effetti civili del battesimo effetti civili che ci sono e che tra l'altro appunto sono da ricollegare a quel scandalo di cui parlavo prima quello dei concubini di Prato che ha portato addirittura una persona come Aldo Capitini a chiedere di poter uscire e di poter esercitare la sua libera autodeterminazione uscendo dal greggio uscendo quindi dalla conta dei cittadini cattolici quindi è fondamentale come diritto ma io le porto quello che è il pensiero di tante persone che mi hanno detto sì io ok non sono credente non sono praticante però c'è sono battezzato perché sì per tradizione e tutto però anche non mi interessa della Chiesa Cattolica quali sono dei rischi o comunque delle imposizioni legali che può avere la Chiesa su di te come persona se sei battezzato rispetto a te non battezzato al di là quello dell'utilizzo dei dati abbiamo detto la garante della privacy questo è stato molto chiaro e comunque come ci contattano ci chiamano i call center o come non ci andrebbe di risultare iscritti al fan club della Lazio se siamo della Roma faccio l'esempio qua della capitale è comunque già di per sé quello sarebbe un buon motivo dal punto di vista anche giuridico ripeto anche la corretta rappresentazione di se stessi nei confronti del mondo quanto per rischi i rischi a dir la verità ci sono sono più concreti del previsto nel senso che chi è battezzato è suddito e sottomesso alle gerarchie ecclesiastiche e per precedenti giurisprudenziali il nostro ordinamento riconosce la potestà di sottomissione delle gerarchie ecclesiastiche nei confronti delle persone battezzate prima ancora dei suoi diritti costituzionali o quantomeno contemporaneamente ai suoi diritti costituzionali la nostra giurisprudenza considera quell'articolo 7 che noi portiamo in costituzione e che sostanzialmente smentisce l'articolo 3 che ci vede tutti uguali e poi l'articolo 7 ci dice che la chiesa è un po' più uguale degli altri ed è indipendente sovrana ecco rimanendo battezzati si rimane sottomessi alle gerarchie ecclesiastiche uno può dire chi se ne frega vero ma è altrettanto vero che questa sottomissione ha degli effetti dei riverberi civili e in sede di diciamo così giurisprudenza il nostro ordinamento alza le mani e riconosce chiara questa potestà delle gerarchie ecclesiastiche ricordiamoci che secondo concordato noi siamo il paese nel quale i superiori ecclesiastici possono venire a sapere di reati e non hanno alcun obbligo di andarli a denunciare ma li possono tenere riservati e segreti e siamo il paese nel quale sempre secondo concordato la polizia per poter fare indagini su ad esempio un prete pedofilo deve prima avvisare i suoi superiori ecco rimanere battezzati vuol dire essere sottoposti e subiti di questo meccanismo ci sono tanti scandali nella chiesa quella della pedofilia è uno dei tanti però uno di quelli su cui vorrei tanto soffermarmi è l'otto per mille la battaglia che portate avanti contro l'otto per mille ce la puoi spiegare? sì allora l'otto per mille è un sistema perverso e potremmo dire truffaldino non lo diciamo noi a dire la verità anche se noi tanti anni che portiamo avanti la campagna occhio per mille ma lo dice la corte dei conti che ha bastonato questo sistema negli anni pesantemente quattro volte eppure senza e ripeto la corte dei conti è la nostra suprema magistratura contabile insomma dovrebbe avere un minimo di credibilità senza peraltro modificare minimamente il meccanismo che è ve lo dico un vanto di Tremonti del già ministro dell'economia Tremonti che si vanta molto di aver trovato questo escamotaggio sostanzialmente l'otto per mille è una tassa obbligatoria un'imposta obbligatoria obbligatoria perché viene comunque prelevata dal nostro reddito non possiamo scegliere di non darla e in questo è la prima grossa differenza ad esempio col 5 o col 2 per mille e che attualmente vede tra i beneficiari lo Stato e due dizioni religiose la Chiesa Cattolica e altre 11 confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato ex articolo 8 della nostra Costituzione secondo Com dov'è il problema? il problema è intanto per dirne una che un cittadino nato e agnostico non ha nessun soggetto a cui donarlo insomma ce l'ha l'Evangelico ce l'ha la Chiesa Luterana ce ne hanno due addirittura di destinazioni buddisti per esempio ma un cittadino nato e agnostico non ha nessuna realtà filosoficamente vicina al suo sentire il secondo problema ed è qui che il meccanismo si fa veramente truffaldino è quello delle cosiddette quote inespresse complice anche la totale assenza di informazioni da parte dello Stato il cittadino medio è convinto che non firmando per la destinazione quindi non compilando il modulo e non scegliendo uno dei percettori di questo 8x1000 il proprio 8x1000 vada automaticamente allo Stato assolutamente no non firmando quindi se il contribuente sceglie di non scegliere la destinazione dell'8x1000 che gli viene comunque sottratta dal patrimonio imponibile questo suo 8x1000 verrà dato in proporzione alle scelte espresse dagli altri facendo in soldoni i numeri con il 36% delle scelte totali quindi su 100 contribuenti 36 scelgono la Chiesa Cattolica la Chiesa Cattolica incamera oltre il 70% dell'8x1000 cioè di tutte quelle quote inespresse di quelle contribuenti che sono convinti che appunto non firmando vada lo Stato oppure addirittura non vada e non venga pagata a ciò si aggiunga il fatto che lo Stato è l'unico tra questi percettori che non si è mai fatto pubblicità per quanto e notiamo che il governo Meloni ne ha approfittato per inserire un ultimo codicillo d'urgenza e quindi da adesso tutte l'8x1000 statale che prevedeva l'edilizia scolastica che prevedeva tra le varie scelte per il cittadino prevedeva il sostegno delle zone terremotate praticamente tutto l'inoptato dello statale quindi tutto l'8x1000 che spetterà lo Stato e che il contribuente non ha scelto espressamente dove destinare andrà alla cura delle tossicodipendenze anche lì è una scelta di campo che la dice lunga ma io mi chiedo ma come mai non si potrebbe o ci sono dei modi per poter inserire l'UAR come realtà nell'8x1000 comunque come segno di comunque un riferimento per le persone ati agnostiche sarebbe possibile una manovra del genere o no? certo servirebbe un'intesa con lo Stato l'UAR è dal 1996 che la chiede è passata attraverso innumerevoli gradi di giudizio abbiamo avuto una sentenza della Corte Costituzionale la 52 2016 una pessima sentenza e attualmente siamo pendenti in Corte Europea dei Diritti Umani vedremo cosa ci dirà la Corte di Strasburgo sul fatto che appunto non ci sia dato ma non solo partecipare all'8x1000 perché in realtà per carità i soldi sono importanti noi non abbiamo nessun tipo di contributo finanziamento statale e andiamo avanti solo grazie alla generosità dei nostri soci e dei nostri militanti e ai volontari ai tanti volontari in tutta Italia ma appunto certo i soldi farebbero sempre piacere ma con l'8x1000 in generale con l'intesa e con questo tipo di accordi arrivano tantissime altre questioni che per noi sarebbero persino più importanti della ripartizione dell'8x1000 uno su tutti ad esempio quello delle unioni del poter celebrare con valore legale matrimoni laico-umanisti o ad esempio avere finalmente questi luoghi laici in ogni comune nonostante il silenzio e l'inottemperanza delle amministrazioni oppure anche un esempio banale sempre a proposito dei nostri celebranti se ad esempio c'è il blocco del traffico perché per le regole sul inquinamento dell'aria ecco i ministri di culto sono esentati possono tranquillamente andare in giro un celebrante laico-umanista anche se ad esempio deve celebrare un commiato quindi non è un evento che può spostare o rimandare non ha questo diritto e su questa base come diciamo sempre anche noi del luar quando i diritti non sono di tutti si chiamano privilegi dovremmo smetterla con i privilegi esclusivamente ecclesiastici ma dovremmo invece garantire quelli che sono poi i diritti umani fondamentali di tutto e tutti a prescindere dal tipo di cosmogonia che uno ha ma come mai c'è un astio sia nei confronti di accettare la realtà del luar ma sia nei confronti di accettare questi diritti da parte dello stato secondo lei ma in alcuni casi è anche una questione economica in generale ripeto a mio parere molto è dato dalla distanza che sempre più c'è tra una classe politica che si rigidisce su determinate posizioni e quello che è poi invece l'humus è la vera vita il vero sentire dei cittadini quindi sicuramente c'è un pregiudizio in questo caso positivo a favore del fattore religioso lo vediamo in tantissimi campi persino nelle richieste di adozione o persino nelle cause di separazione fra genitori preferito chi in teoria ha un'educazione religiosa o chi vuole offrire un'educazione religiosa dimostrata che chi è religioso rispetto a chi è ateo abbia una marcia in più un valore in più lo stato questo tipo di considerazioni non si dovrebbe proprio permettere di farle in teoria dal punto di vista costituzionale abbiamo appunto un articolo 3 che ci dice che siamo tutti uguali all'atto pratico appunto abbiamo detto il principio di laicità è purtroppo anche un principio nel senso che siamo ancora agli inizi nella sua applicazione la democrazia cristiana è comunque stato un colosso per quanto riguarda la lotta alla laicità dello Stato la scomparsa dell'ADC ha reso più semplice la lotta alla laicità dello Stato oppure è cambiato ben poco allora intanto sotto l'ADC che c'aveva il 40% da sole sono passati però l'aborto il divorzio lo statuto dei lavoratori quindi attenzione che per quanto certo che l'ADC non andava nel senso della laicità dello Stato come possiamo intenderla modernamente adesso ma ha permesso una democrazia rappresentativa valida visto che appunto le leggi più laiche che abbiamo avuto le abbiamo avute quando la balena bianca veleggiava da sola in percentuali clamorose detto ciò adesso è appunto come dicevo prima più difficile combattere a favore della laicità perché non esistendo più un punto di riferimento e inventandosi tutti una criptoreligione perché ripeto è facile baciare i santini e dire la famiglia è una e una sola tradizionale quando poi si è privorziati conviventi muore oxorio o non sposati come il nostro presidente del consiglio tanto per dirne una ecco e si è questo irrigidimento proprio perché si vuole senza sostanza ma solo formalmente solo di apparenza dimostrare in qualche modo di essere il punto di riferimento dell'elettorato cattolico e come dicevamo prima però è un elettorato che se c'è non è più certo compattabile sotto la semplice definizione in base alla visione religiosa insomma ce ne sono tanti tanti di cattolici anche i nostri politici la nostra classe politica dovrebbe venire un po' a patti con la questione quindi la questione religione politica secondo me è un problema che va avanti da tanto tempo ma io credo più che altro che la religione diventi un problema proprio quando entri in politica perché quella che è la mia visione della religione è qualcosa di personale dovrebbe essere qualcosa che sta nell'individuo fa star bene l'individuo non vedo quali sia l'esigenza o quali sia proprio quella cosa che porta la religione a essere politica perché non ha senso che sia politica non potrei che stai più d'accordo ma ricordiamoci sempre che la religione è anche un potere temporale dalla sua diciamo così e spesso è anche una questione economica banalmente e in generale noi viviamo di questo pregiudizio positivo nei confronti del fattore religioso tra l'altro del fattore religioso esclusivamente formale e non di sostanza siamo tutti un po' ipocriti sotto questo profilo insomma io vorrei provare ad introdurre quello che è un discorso legato al debito della chiesa perché la chiesa oltre all'otto per mille ci sono stati anche altri modi con la quale si è presa tanti soldi che però non ha mai ridato allo stato si potrebbe riuscire a trovare un modo per far sì che la chiesa ridia questi soldi allo stato magari la chiesa cattolica in quanto tale costa lo stato italiano quasi 7 miliardi l'anno insomma siamo oltre i 6 miliardi e mezzo di euro l'anno invito a consultare la nostra ricerca www i costi della chiesa troverete tutte le varie voci ben spiegate alcune che i cittadini nemmeno sospettano tanto per dirne una 35 milioni di euro è quello che ci costano i cappellani negli ospedali quando noi vediamo il prete che gira nelle stanze negli ospedali no non è un volontario è pagato come un infermiere poi magari l'infermiere manca ma quello è un altro paio di maniche quando la chiesa ha dei grossi debiti nei confronti dello stato lo stato ci pensa abbonandoli i debiti tra i più famosi appunto qua a Roma noi lo sappiamo bene è la città del Vaticano è debitrice di 25 milioni di euro di bollette alla CEA che è l'azienda municipalizzata dell'acqua per lo smaltimento delle acque reflue per l'acqua potabile e lo smaltimento delle acque reflue ebbene lo stato italiano ha pensato di ammortizzare questo debito questi 25 milioni di euro in ogni finanziaria a carico di tutti i cittadini italiani 5 milioni di euro l'anno cioè sostanzialmente io a Dele Orioli con le mie tasse pago le bollette del Vaticano che bruttissimo oltre che i preti in corsia oltre che gli insegnanti di religione oltre che gli spostamenti delle reliquie fatti con i voli di stato i voli dell'esercito e tutta un'altra serie un'altra serie di cose ripeto i cittadini non credenti sono spesso contribuenti di serie A e altrettanto spesso trattati però come cittadini di serie B mi fa tanto strano che la chiesa non si prenda la responsabilità sia per quanto riguarda queste cose qua sia per quanto riguarda anche il pagare gli insegnanti di religione però comunque gli insegnanti di religione da quello che so poi lei mi corregga sono comunque eletti dalla curia sono scelti dalla chiesa cattolica però vengono pagati dallo stato sono scelti dal vescovo tra l'altro di anno in anno quindi il nulla osta vescovile dura solo un anno ma sono pagati dallo stato e peraltro qualora perdessero il nulla osta vescovile possono essere inglobati ad insegnare tutt'altro nella scuola pubblica quindi anche creando una strana commissione di religione e non religione sì assolutamente è così è un obbligo concordatario come quello di fornire appunto la polizia o le forze armate come quello di non avvisare la polizia in caso di reati commessi in abito talare e tante altre belle cosine insomma come l'esenzione dell'ici e poi l'imu che ci ha visto anche condannare più volte in sede europea perché non riusciamo come stato italiano a avere le tasse sugli immobili nemmeno dagli immobili che svolgono una natura sostanzialmente solo attività commerciale quindi non attività religiosa stimato un danno anche lì di milioni di euro dal lanci cioè dall'associazione nazionale comuni italiani proprio per questi tutti i muoici che non sono riuscite a incassare insomma dai vari hotel alberghi di lusso ma di proprietà ecclesiastica e che quindi sono in buona sostanza esenti ripeto anche questo un meccanismo di puro favoritismo che ci ha visto condannare sia a livello di commissione europea sia a livello di corte europea ma che sulle quali quindi paghiamo multe visto che siamo condannati ma che non ha cambiato minimamente la corsia preferenziale diciamo così attribuita a una determinata parte della realtà italiana ecco una piccola e ben determinata parte chiaramente l'UAR ha i suoi detrattori tracciando ovviamente le persone clericali che comunque sappiamo perché criticano l'UAR e va bene ma io credo che una parte dei detrattori dell'UAR siano delle persone che dicono bah ok si combattono per la laicità dello Stato ma come vediamo le chiese sono sempre più vuote la gente non crede più in Dio non esistono più i valori cristiani alla fine in tv c'è una grande espansione delle persone LGBT e quindi ormai la chiesa è stata già scompenso come risponderebbe l'UAR? ma a dire la verità no siamo anzi abbiamo forse più detrattori che ci vorrebbero più anticlericali di stampo ottocentesco no cloro a clero e cose simili ecco no l'UAR ripeto in realtà non è antireligiosa quindi le critiche arrivano più da chi ci vorrebbe un po' più old-fashioned diciamo così no in realtà appunto l'UAR non è antireligiosa la chiesa fa il suo mestiere che poi il suo mestiere funzioni sempre meno è un dato di fatto che sia lo Stato che debba dare una mano alla chiesa per come dire colmare questo deficit nel suo lavoro è proprio il punto che non va bene quindi il problema non è che le chiese sono sempre più vuote il problema è che ad esempio impongono le messe a scuola nell'orario scolastico a tutte e tutti il problema è che nonostante sia dichiarato assolutamente come materia facoltativa ancora oggi in tantissime scuole è sostanzialmente impossibile non frequentare l'ora di religione parlo soprattutto per le fasce d'età più piccole tutta una serie di imposizioni che in realtà sono evidente gridano evidentemente vendetta una su tutte l'abbiamo visto proprio in questi giorni la polemica successa a Carpi una preside una direttrice scolastica ha osato staccare i crocefissi dalla scuola peraltro secondo anche una recente sentenza alla corte di Cassazione che grazie a Luar e al professor Coppoli ha fatto dichiarare nero su bianco come l'imposizione del crocefisso nelle aule scolastiche sia un relitto fascista un relitto d'epoca fascista eppure appunto questa preside è stata talmente bersagliata di insulti che li ha dovuti riattaccare ecco uno stato laico non è certo uno stato che nella scuola pubblica appende i crocefissi in ogni aula uno stato laico è uno stato che ha una parete bianca aperta e inclusiva ma secondo me tutto questo deriva tantissimo come ha detto lei e come vorrei sottolineare io da quello che è un passato perché secondo me tutto questo viene da un regresso culturale che la chiesa ha imposto da anni come religione di stato e anche prima della breccia di portapia perché la breccia di portapia è stato un evento significativo per la disfatta o l'inizio della disfatta della chiesa cattolica ma io vedo e noto soprattutto come ci sia uno stretto rapporto tra chiesa e stato soprattutto dopo i patti lateranensi che sono ancora inglobati nella costituzione italiana no non è un caso allora intanto una piccola battuta nel senso che attualmente si parla tanto di sovranismo 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 ma quando si parla di chiesa cattolica vaticano non si trova mai un sovranista nemmeno a pagarlo perché in realtà proprio le stesse persone gli stessi esponenti che si dichiarano fautori massimi supremi del sovranismo poi come dire calano le braghe dello stato di fronte a quello che è in realtà semplicemente un altro stato estero un altro piccolo stato estero diciamo che in generale il fattore religioso è una determinata e la dottrina cattolica che è rimasta immutata nonostante insomma le simpatie e sorrisi dell'attuale pontefice ma la dottrina cattolica è sempre la stessa si presta come sempre il fattore religioso lo vediamo tragicamente in tutto il mondo non è certo solo in Italia si presta molto bene a una politica identitaria e noi che usciamo dalla cosiddetta crisi di valori dal prima diciamo dopo i patti lateranensi c'è stata parecchia roba c'è stato anche ad esempio il crollo del muro di Berlino c'è stata una certa dissoluzione e liquefazione delle posizioni degli ultimi 50 anni diciamo così e il fenomeno religioso appunto come succede non solo da noi è proprio l'instrumentum regni o a volte il regnum che è l'instrumentum religionis perfetto per coagulare politiche appunto identitarie e in questo caso anche sovraniste non è un caso se i nostri rappresentanti il presidente del consiglio mi raccomando al maschile come gradisce lei Giorgia Meloni è andata in Ungheria a dire che loro sono lì a difendere Dio e la famiglia Quale posizione ha Luar nei confronti della multa per blasfemia per quanto riguarda quella che è la bestemmia non è un reato ma bensì è un illecito amministrativo Par ovviamente aderisce alla campagna internazionale and blasphemies laws e ovviamente ritiene che tutte le leggi anti blasfemia sarebbero da abolire peraltro anche l'ONU lo pensa nel senso ha invitato tutti i paesi aderenti alle Nazioni Unite a man mano abolire questi tipi di legislazioni non solo perché sono un'inaccettabile limitazione alla libertà di espressione alla libertà di coscienza ma anche perché tendenzialmente le leggi anti blasfemia sono in realtà un semplice modo per silenziare le minoranze teniamo presente che proprio sulla base di queste leggi in 12 paesi nel mondo i non credenti sono messi a morte inoltre 70 subiscono pesanti persecuzioni tra l'altro i non credenti arrivano primi anche nella classifica della sfiga perché grazie alle leggi anti blasfemia solo ovviamente il solo ha tutta la grave ironia del caso solo in 10 si possono uccidere le persone LGBTQ plus e in 12 invece si possono uccidere i non credenti quindi siamo ancora persino più perseguitati in Italia la Corte Costituzionale ha perso la grande occasione quando c'è stata la riforma investita della questione tra l'altro nei primi anni 2000 ha perso la grande occasione di abolire completamente il reato non solo di blasfemia perché c'è anche quello di vilipendio abbiamo entrambe le discipline e l'ha estesa addirittura a copertura di tutte le altre divinità ha inserito una fattispecie specifica di danneggiamento che non sfocia in una multa perché danneggiare un oggetto religioso può comportare fino a due anni di carcere ha inserito un nuovo reato anche se ne ha depenalizzati e altri li ha trasformati in illecito amministrativo e noi siamo un paese assurdo nel quale al di là che posso bestemmiare la Madonna perché non divinità ma se ne tocca una statua posso finire in carcere fino a due anni siamo un paese in cui abbiamo un solo caso in cui la diffamazione non è a querela di parte come si suol dire che è appunto quello della bestemmia in cui addirittura lo Stato si fa garante di tutelare l'onorabilità di un essere dalle incerte esistenze che ne un risulto abbia mai dato procura un avvocato perché si è sentito offeso dal paragone con il suino il cane o il chissà che cos'altro di ingiudioso di turno quindi è ovvio sono leggi retrive sono leggi anche lì che i vari paesi civili e democratici hanno man mano smantellato che solo determinate le crude scienze anche qui di tipo identitario di tipo sicuritario possono far venire voglia di sostenere detto ciò ovviamente rimane un illecito e il vilipendio in alcuni casi rimane un reato quindi in quanto tale Luar non invita a bestemmiare anche perché non è il massimo dell'educazione ecco ma appunto dovrebbe essere semplicemente una qualifica di bonton non certo legislativa io vorrei farle un'ultima domanda molto surreale forse si metterà a ridere io vorrei chiederle se Luar adesso avesse il potere decisionale diretto di poter fare qualsiasi cosa per migliorare quella che è la situazione tra religione e stato quale sarebbe la riforma a cui darebbe priorità elimineremo l'articolo 7 e riformuleremo l'articolo 8 della costituzione già solo quello aprirebbe tutto un altro scenario ovviamente fossi come dire dittatrice ci sarebbe quello che è comunque una possibilità concreta reale anche se del poco probabile ecco possibile ma poco probabile e c'è la denuncia unilaterale del concordato con la chiesa cattolica tutte le realtà religiose o le associazioni filosofiche non confessionali come siamo noi e come l'unione europea obbliga a considerare sullo stesso livello l'articolo 17 del trattato di Lisbona adesso il trattato unico del funzionamento dell'unione europea obbliga gli stati a dialogare pareteticamente con le confessioni religiose e con le associazioni tipo luar ecco la denuncia unilaterale del concordato quindi aboliamo il concordato aboliamo l'articolo 7 e discipliniamo tutte le entità esponenziali di una cosmogonia quindi anche quelle che attualmente non hanno un'intesa o anche quelle le realtà ate e agnostiche le discipliniamo su una base di un unico e finalmente equanime articolo 8 della Costituzione ce l'avremmo è la bacchetta magica al momento che ci manca ma continuiamo perché in realtà ripeto per quanto sia poco probabile è un obiettivo possibile la società sta cambiando e esistono tanti ateismi tanti agnosticismi quanto sono gli ate agnostici in Italia almeno uno su sei più di dieci milioni e noi UAR cerchiamo nel nostro piccolo di essere a servizio di tutti loro io vorrei veramente ringraziarla per averci concesso il suo tempo è stato veramente un piacere poterla conoscere poter approfondire questa realtà e io spero veramente che la gente voglia veramente iniziare ad informarsi su che cos'è l'UAR e non si fermi a quello che sono le maledicenze di tante persone veramente grazie grazie a voi grazie